Da oggi l'USL 8 mette in campo per le vaccinazioni a domicilio dei pazienti fragili, oltre i medici USCA e i medici di base, anche il suo M118, un impegno previsto al momento di un giorno alla settimana. Per quanto riguarda invece la campagna vaccinale a tutt'oggi, l'adesione degli over 80 è stata del 97%, conclusa la scorsa settimana la somministrazione per loro della prima dose e dentro il 2 maggio si prevede la chiusura dei richiami. Rimane aperta, assicura l'USL per il residuo 3%, che non si è presentato a ripetuti inviti o non risulta reperibile, la possibilità di prenotarsi online o di presentarsi direttamente nei centri vaccinali di competenza. Prosegue la campagna per gli over 70, quasi 30.000 quelli che hanno già ricevuto la prima dose, su una popolazione di oltre 47.000. Continua anche la vaccinazione da parte dei medici di medicina generale, dei nati tra il 43 e il 47, 4.000 le dosi che sono state consegnate in settimana negli ambulatori. Per gli utenti, i cui medico di base, l'elenco nel sito dell'USL, non vaccinasse, è possibile sempre prenotarsi online. Infine, per le classi 1942, 48, 49, 50 e 51, continua la disponibilità di posti per la prenotazione online.